Ben ritrovati, il nostro consueto appuntamento con diritti negati, anche oggi saranno tanti gli argomenti che affronteremo, anche in base alle richieste che ci sono arrivate durante la settimana, anche sul nostro numero Whatsapp e le telefonate che ci sono giunte anche in redazione. Allora saluto subito i nostri ospiti, l'Avvocato Pierpaolo Rodighiero, bentornato Avvocato. Bentrovati. La dottoressa Mariella Ippolito. Buon pomeriggio a tutti. E il dottor Cristian Scalmazzi, bentornati. Buon pomeriggio a tutti. Allora diciamo che in questa settimana abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini sempre più tartassati, diciamolo. Sono diversi gli avvisi di pagamento che stanno arrivando, tra poco ne parleremo con il dottore Scalmazzi perché credo che in quest'ultimo periodo si sono svegliati un po' gli agenti di riscossione, i cittadini devono mettere mano al portafoglio, ne parliamo tra poco perché c'è un'altra questione che volevo affrontare all'inizio con l'Avvocato Rodighiero che riguarda le parking card. Allora, questi permessi per parcheggiare giusto a Cosenza nel centro cittadino, però avete notato voi come Codacons qualcosa che non va? Lo abbiamo notato perché lo possiamo chiamare un allarme ai cittadini che con molta leggerezza hanno firmato quei moduli per ricevere praticamente la parking card. Non so se nelle altre province calabresi si usa lo stesso metodo, però noi ci rifacciamo a quello che abbiamo oggi e praticamente sapete tutti benissimo che per il rinnovo vi spiego qual è l'allarme che altrimenti sembra cosa di poco conto e dopo aver pagato con pago PA o con bonifico arriva nell'email, arriva questo modulo che bisogna firmare altrimenti non si ritira materialmente il tesserino per il parcheggio sulle strisce blu. Ebbene, che cosa hanno pensato questa amministrazione? Che praticamente è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fatta ai sensi del DPR 445-2000 che praticamente è una dichiarazione che avverte che in caso di dichiarazione false o mendaci praticamente scatta un procedimento penale perché è una cosa di un'importanza proprio solenne. Non bisogna dichiarare il falso né fare dichiarazioni mendaci, altrimenti parte subito un procedimento penale. E praticamente quello che si va ad attestare è, fra le altre cose, di essere in regola con il pagamento dei tributi locali del comune di Cosenza. Il cittadino deve attestare al comune che ha i suoi potenti mezzi che va a richiedere i tributi locali che è in regola con il pagamento, cioè si è invertito l'ordine, cioè non è l'ente che attesta la regolarità nel pagamento al cittadino, è il cittadino che deve dichiarare con questo tipo di dichiarazione che in caso di dichiarazione falsa parte un procedimento penale che è in regola con i contributi. L'assurdo di tale assunto è che Equitalia, ex Equitalia, agenzia delle entrate e discussioni, in questo anno sta andando a recuperare per conto del comune e del comune, quello che non è stato pagato 2017, 2018, 2019, 2020 lo sta andando a recuperare. E quindi ci sono molte cosiddette intimazioni di pagamento che presuppongono che sia già arrivata una cartella non impugnata, per cui ancora si stanno ricevendo queste notifiche per debiti che già il cittadino dovrebbe conoscere, senza dimenticare che durante la pandemia sappiamo benissimo che i postini per ragioni di evitare il contagio non venivano più a bussare e far firmare il retro per motivi legati alla pandemia, per cui lasciavano la raccomandata e molte persone che non hanno ritirato la raccomandata oppure l'avviso di giacenza presso il comune è stato smarrito, è stato rubato, è caduto per terra nell'androne dove ci sono le buche delle poste si trovano debitori e vanno ad accertare che invece hanno una regolarità. È il classico esempio di quando una ditta per appaltare un lavoro chiede il DURC che sarebbe la dichiarazione di regolarità per quanto riguarda i contributi e per quanto riguarda le tasse, non è l'imprenditore che il DURC se lo fa da solo, viene richiesta agli enti competenti i quali rilasciano l'attestazione di regolarità contabile. Per cui il problema vero qual è? Che moltissimi, siccome non sanno leggere, c'è l'affidamento. Quando viene posto sotto il naso di un cittadino un documento in cui si dice ti ritiriamo, firma in questa dichiarazione, ci sono dei dati anagrafici da mettere, il cittadino sa che praticamente è una prassi, devo firmare per ricevere la parking card, la testerina, non sa che invece va a firmare sotto responsabilità penale delle dichiarazioni di cui non può essere sicuro. l'unica sicurezza uno ce l'ha se al comune di Cosenza, in questo caso municipia, rilascia al cittadino preventivamente una dichiarazione di regolarità del pagamento, ma non può essere invece l'inverso. È un ragazzino di 18 anni che si va a ritirare la parking card, che è disattento, invece di rifiutarsi di firmare firma, se questo deve andare a fare un concorso, oltremmo un posto di lavoro, cioè con un procedimento penale per falso, quindi dichiarazioni, mendagio e quant'altro, rischia grossissimo. Per cui io mi sono già messo in contatto comunque con il comune di Cosenza, aspetto notizie nei prossimi giorni, perché questa è una dichiarazione, è un modulo prestampato, non ci sono delle caselle in cui uno con la crocetta va a dichiarare quello che è sicuro, qui è già prestampato, per cui mettendo una firma già si è dichiarato quello che uno non può dichiarare, perché per le motivazioni che ho detto, come facciamo a sapere se siamo in regola con il pagamento. Non lo sappiamo, ma non lo sappiamo, perché arriva la raccomandata, non la ritiro, non c'è, diciamo, viene smarrita, qualcuno ruba dalla cassetta della posta, o non viene recapitata per tanti motivi, e come faccio a sapere se io sono regolare? È l'ente che deve dire se io sono regolare, non il cittadino che dice all'ente che sono regolare, altrimenti con la dichiarazione non vanno più accertamenti. Infatti è un po' paradassi. È un po', quindi attenzione, attenzione a questa fattispecie. Certo, intanto parliamo anche delle tasse, dei solleciti di pagamento che stanno arrivando, dottore Scalmazzi, ma che sta succedendo? Si deve andare al recupero, no? Sono mosse e soggianze, ci saranno. Il problema non è che stanno arrivando cartelle di pagamento, noi abbiamo un problema, che è stato il problema collegato all'annualità 2020-2021, dove purtroppo abbiamo avuto il problema della pandemia. In virtù della pandemia, tutte quelle che erano le azioni esecutive, le attività di accertamento da parte degli enti previdenziali e fiscali, erano stati sospesi. Quindi, in quel periodo, vuoi per manganza di liquidità, vuoi anche il furbetto che non ha pagato, che cosa è successo? Che fermandosi le attività di accertamento, anche quelle che erano le annualità in scadenza, che hanno subito comunque delle lievi proroghe, per quanto riguarda gli accertamenti, stanno costringendo purtroppo gli uffici pubblici ad accelerare quelle che sono le attività di accertamento, per non fare andare in prescrizione gli anni oggetto da accertare, e quindi anche l'agenda della riscossione ha ripreso l'attività di riscossione con maggior vigore rispetto alle varie proroghe e sospensioni che c'erano state per colpa della pandemia. Però, che distorsione si sta creando nel sistema? Allora, le persone che non avevano pagato imposte stanno ricevendo i pagamenti in un'unica soluzione per annualità che vanno dal 2018 fino quasi, per quanto riguarda gli enti previdenziali, a fine 2022. Che cosa significa? Che un piccolo artigiano, un piccolo commerciante, che sono le categorie che noi come Confimitalia andiamo a rappresentare, si ritrovano adesso a dover pagare l'annualità in corso, a recuperare il 2021 e pagare la parte dei contributi del 2020 perché per diverse ragioni magari non hanno potuto usufruire di sospensioni o riduzioni collegate alla pandemia. Quindi si sta innescando un sistema dove la gente purtroppo è impossibilitata a pagare. E sicuramente, che cosa si verifica? Che la problematica poi non è legata nemmeno alla cartella che io faccio scadere nei 60 giorni. La problematica è che sui vecchi crediti comunque che lo Stato deve riscuotere sta inviando in modo massivo intimazioni di pagamento dove se entro i 5 giorni non si paga e nei 30 giorni barra 60 giorni successivi all'intimazione di pagamento non ci sono i presupposti per ricorrere contro eventuali prescrizioni, motivi di decadenza delle cartelle e quant'altro, purtroppo il nostro telespettatore e i nostri concittadini ci ritroveremo tutti nella situazione di dover subire dei pignoramenti che vanno dal blocco dei conto correnti se si è dipendenti al blocco del quinto dello stipendio o a fermi amministrativi o addirittura se si superano determinate soglie si arriva all'ipoteca sull'immobile. Si blocca l'economia. Certo. C'è il disagio sociale totale. Cerchiamo di pensare un'altra cosa. Noi ancora oggi i ristoranti li vediamo pieni durante i fine settimana. Ma li vediamo pieni anche perché all'interno del sistema c'è un flusso di liquidità mensile che viene garantito dal reddito di cittadinanza. Che tra poco... Che quando sarà sospeso il reddito di cittadinanza questo flusso di liquidità verrà meno. Quindi significa che se c'erano dei percettatori di reddito di cittadinanza che andavano a spendere anche 50 euro per mangiare una pizza una volta al mese da agosto non ci saranno più. La mia non si sa quando ripartirà. I supermercati vedranno calare il fatturato. Perché se io oggi avevo una disponibilità di 500 euro anche solo per fare la spesa comunque il supermercato 500 euro in più li fatturava. Nel momento in cui io non c'erano più il reddito di cittadinanza da spendere. Magari anche un 500 euro di spesa alimentare superfluo rispetto a quello che mangio di solito. Non lo vado più a fare. Quindi ci sarà una riduzione e contrazione dei consumi. E in un periodo di inflazione diciamo che potrebbe essere positivo per l'abbassamento dei prezzi ma sicuramente non è produttivo per le aziende che sono impegnate nella fornitura dei supermercati e per i supermercati stessi che nella commercializzazione dei prodotti ne traggono beneficio. E soprattutto per i cittadini che davvero tra bollette, rincari, mutui che sono ormai alle stelle. E comunque c'è una buona notizia. La diciamo tra poco perché abbiamo una telefonata intanto. Pronto? Almeno una buona notizia. Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiamo? Chiamo da Cosenza. Benvenuta, prego. Volevo un'informazione da chi capita perché tanto l'uno vale l'altra penso lo sappiano tutte e tre. Faccia la domanda. Queste brave persone che sono in diretta. Come mai il bonus di 600 euro solo per la Calacchia è stato annullato? Perché noi siamo i più ricci. Se mi volete spiegare qualcosa siccome ho sentito al signor Cristian che in questo momento parlava di una buona notizia per le bollette sono curiosa di sapere di che si tratta. Io volevo capire invece No, no, signora, non se ne vada perché volevo capire a quale bonus si riferisce perché bonus di 600 euro C'era un bonus di 600 euro per la spesa e per le medicine Un bonus La carta acquisti, non è neanche la carta acquisti che tocca soltanto non alla Calabria la Calabria è stata esclusa perché è una zona più ricca probabilmente Oddio, zona più ricca chiaramente in maniera ironica Capisco Hanno cacciato proprio i piri voglio dire Capisco che ci sta che in maniera ironica Ci informeremo e vedremo insomma daremo una risposta precisa Vabbè Intanto vi ascolto Fortunatamente in televisione per questo bonus delle bollette Grazie mille Anche io sono curiosa di sapere questa buona notizia dal dottore Scalmazzi che riguarda le bollette Il governo ha inserito nella manovra che sta predisponendo la proroga degli aiuti sia alle famiglie che alle imprese per quanto riguarda il bonus bollette in scadenza il 31 marzo Quindi per tenere bassi i costi delle energie stanno studiando da aprile quindi sarà approvato un nuovo strumento che permetterà di sostenere nella spesa nei consumi energetici e del gas le famiglie L'unica cosa ancora dove si sta discutendo è per quanto riguarda i famosi oneri di sistema se saranno tolti totalmente o in percentuale e se si potrà riconfermare per quanto riguarda il gas l'aliquota al 5% Sempre in base all'ISEE poi questi aiuti questi diciamo Diciamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha detto che ci sarà un discorso collegato soprattutto all'essere virtuoso nei consumi Essere virtuoso nei consumi che può essere tutto e può essere niente può essere qualsiasi cosa Sapendo come funziona in Italia si tireranno fuori che magari una famiglia di 4 persone che abita in un immobile di 100 metri quadrati dovrebbe consumare 2.000 kilowatt se ne consumi 1.800 magari hai diritto a un maggiore sconto sulla bolletta rispetto a chi ne consuma 200 Vabbè io vorrei dire volevo intervenire dottoressa Ippolito io in quest'ultimo periodo ho notato che molte famiglie sono molto attente nei consumi anche perché poi le bollette che arrivano quindi insomma sono abbastanza virtuose non solo nei consumi anche nella spesa alimentare anche nella spesa alimentare perché se oggi andiamo al supermercato vediamo che ci sono dei prezzi che rispetto già a tre mesi fa erano impensabili Eh certo dottoressa Ippolito Sì volevo aggiungere che c'è anche una novità da pochi giorni tutte le persone che sono lavoratori autonomi senza partita IVA quindi mi riferisco a tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata che erano stati esclusi dal richiedere il bonus dei 200 euro e dei 150 anche a loro è stata data la possibilità di farne richiesta quindi sono aperte già le diciamo richieste che si possono fare direttamente sul sito dell'Inps o anche tramite patronato o naturalmente tramite anche Speed o contact center dell'Inps fino al 30 di aprile naturalmente ci sono dei requisiti che bisogna avere come ad esempio il reddito non superiore a 35.000 euro per quanto riguarda il bonus dei 200 euro e non superiore a 20.000 euro per il bonus dei 150 bisogna essere iscritti alla gestione separata prima del 18 maggio del 2022 e dentro sempre questa data quindi 18 maggio 2022 almeno deve risultare una contribuzione effettuata se ci sono tutti questi requisiti si può tranquillamente fare richiesta ripeto scadenza 30 aprile rispondiamo a proposito dei 150 e 200 euro ci chiedono ogni quanto viene pagato questo bonus dei 150 e 200 euro l'abbiamo detto che era una tantum quindi cioè vieneva erogato soltanto prima i 200 euro e poi le 150 eccetera eccetera quindi non ci saranno al momento nessun'altra erogazione per chi li ha già ricevuti tranne soltanto per questa categoria che inizialmente erano stati tenuti fuori è stata anche a loro data la possibilità di fare richiesta ma per tutti quelli dipendenti pensionati per settori di naspi oppure anche per settori di reddito di cittadinanza che ne hanno già usufruito non c'è la possibilità di fare una nuova richiesta ecco noi l'abbiamo detto più volte che si trattava di misure una tanto ma però lo ripetiamo perché magari si spera qualcuno spera che ci siano ancora questi questi aiuti continuiamo a parlare di di tasse bollette eccetera eccetera e anche la difficoltà di accedere alla rateizzazione sia per quanto riguarda le bollette che si può accedere ad una sola rateizzazione giusto avvocato e poi magari con l'altra bolletta insomma si accumula la rata della bolletta precedente per cui non si risolve niente per cui chi è in difficoltà praticamente ecco perché il disagio sociale stiamoci attenti perché poi chi si trova a non poter pagare poi ecco perché insomma poi non è sempre meglio evitare che ci sia un disagio tale da costringere le famiglie diciamo a vivere al freddo al gelo ecco questo io dicevo prima al dottore Scalmazzi che già da tempo le famiglie sono molto più oculate nella gestione domestica e quindi anche nei consumi quindi non si lasciano le luci accese si fanno magari la lavatrice la lavastoviglie magari la sera qualcuno non la fa neanche proprio per evitare però insomma il momento è sempre più difficile e c'è anche la difficoltà di accedere no alla rateizzazione per il punto riguardo i tributi locali una segnalazione è arrivata proprio sì è arrivata no l'abbiamo fatta proprio come associazione l'abbiamo l'abbiamo inoltrata sempre per persone che non riescono diciamo a farlo telematicamente e praticamente ce l'abbiamo qua è praticamente una bravissima famiglia composta da due persone madre e figlio che praticamente hanno un reddito un reddito netto di sono praticamente 500 euro al mese e praticamente capite bene moltiplicate per 12 e sapete benissimo dove arriviamo a 6.000 euro l'anno hanno avuto tributi locali arretrati di 2.500 euro e quindi abbiamo fatto la richiesta mandando i documenti del reddito iso e quant'altro con la massima rateizzazione ed è arrivato praticamente che la massima rateizzazione che si può concedere è di 12 rate quindi su un reddito di 500 euro di 500 euro mensili si vanno a rateizzare a 200 euro al mese significa che praticamente questa famiglia non pagherà il tributo locale perché o mangia oppure paga il tributo due persone 300 euro in un mese è quello che rimane quindi o mangiano o mangiano oppure vanno a pagare e tutti devono pagare le tasse ma per 500.000 motivi uno può essere in arretrato omoroso poi stiamo parlando di redditi veramente sotto soglia di dignità umana quello che diciamo da sempre le norme non vanno applicate orizzontalmente ma in modo verticale nel senso che chi guadagna di più deve avere meno agevolazioni dei redditi molto bassi per cui è ovvio che cosa si crea si crea che praticamente una società dimorosi soprattutto perché le norme applicate in questo modo la norma è liberticida quindi questa famiglia non pagherà quindi perché non avrà la possibilità o mangia o si paga il tributo locale sarebbe più giusto come fa l'agenzia delle entrate riscossioni che fino a 50.000 euro senza dire buongiorno mi chiamo Tizzi e Caio rateizza 72 rate e se c'è difficoltà arriva a 120 rate quindi in 10 anni quindi la tanto vituperata agenzia delle entrate riscossioni abbiamo scoperto che praticamente è molto più vicino ai bisogni dei cittadini non le amministrazioni locali come si può fare a ratezzare in 12 uscendo da un periodo di pandemia e ripeto sempre i cittadini non sono uguali perché c'è chi guadagna 2.000 euro al mese 3.000 4.000 e c'è chi guadagna 400 500 600 euro al mese ma davvero li vogliamo considerare uguali e quindi applicare la norma in senso orizzontale fermo restando che le tasse si devono pagare tutti dobbiamo pagare è un momento storico in cui praticamente non si può le persone essere fatte buttare la casa come nel caso di specie sono in vitto quindi se non pagano in vitto vanno in mezzo alla strada e che fanno dopo cioè quindi cerchiamo di evitare il disagio sociale il tanto perché la tranquillità sociale di tutti quanti non costringiamo la gente magari come ci riportano e non è una barzelletta tra le cronache dei giornali il nostro procuratore che è a Catanzaro che rimanga in vita a 200 anni praticamente l'usura di quartiere è proprio questo ci sono le famiglie a basso reddito che per una malattia per una tassa non pagata per le bollette della luce perché uno non può rimanere senza luce vanno a chiedere il piccolo prestito il piccolo prestito non restituito perché poi è impossibile perché gli strozzini rubano la vita arriva all'usura di quartiere che quindi veramente portano via la vita all'usurato e si parte in questo tipo di usura veramente con 200 euro di prestito che dopo una settimana non vengono restituite diventano 800 e lo sappiamo tutti chi pratica un po' che i tribunali come funzionano queste cose allora stanno arrivando tante richieste ed aiuto da parte dei nostri telespettatori cercheremo di rispondere un po' a tutti intanto abbiamo una telefonata pronto 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 io sento che c'è qualcuno in linea forse non riusciamo a sentirci pronto c'è la telefonata buongiorno eccoci da dove ci chiama pronto sì da dove ci chiama pronto la sentiamo ci dice da dove ci chiama e qual è il problema ci chiamo da Ciron Marina benvenuto intanto prego da Ciron Marina perfetto salutiamo salutiamo Ciron Marina eh io ci chiamo la Ciron Marina grazie buongiorno allora se può abbassare il volume del televisore chiedo anche alla regia magari se riusciamo a dirlo ai nostri telespettatori di ascoltarci sì stiamo ascoltando l'eco allora da Ciron Marina lei è pensionato cosa voleva sapere c'è ancora allora abbiamo un po' di problemi con vediamo se riusciamo a capire se allora facciamo così allora ci dice sono in diretta adesso lei è in diretta la sentiamo allora pensionato da Ciron Marina la sento pensionato da Ciron Marina qual era il problema eh io sto chiamando da Ciron Marina perfetto eh io sono un pensionato da circa sei anni sì e sono un pensionato anticipazione con contributivi sì vorrei sapere se mi stesse il bonus di 200 euro contributiva credo proprio di sì pensione contributiva giusto bonus di 200 euro quello che è stato già erogato che è già stato erogato parliamo di un bonus già in passato erogato quindi lei non ha non ha verificato il suo cedolino perché l'avrebbe dovuto già trovare certo che gli spetta ad agosto l'avrebbe già dovuto trovare una volta sola sì una volta sola non è tutti i mesi questo bonus che si percepisce è stato soltanto una volta l'ho preso esatto e allora sì nient'altro va bene la ringrazio grazie a lei noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità torneremo tra pochissimi eccoci di nuovo in studio dicevo sono tantissime le richieste di aiuto che ci stanno arrivando sul nostro numero whatsapp intanto volevo leggere questo appello di Susi Urso che è membro del comitato diritto alla salute di Bocchigliero riguarda la sanità perché ci dice che il paese in cui vive appunto Bocchigliero in provincia di Cosenza è senza il medico di base e senza la guardia medica sulla vicenda scrive stiamo lottando noi insieme alle istituzioni locali Bocchigliero scrive ancora paese ultra periferico non può continuare a versare in queste condizioni la cittadinanza chiede aiuto beh questo è un diritto negato per i cittadini in questo caso di Bocchigliero anzi vi ringraziamo per questa segnalazione perché un paese non può rimanere senza il medico di base e la guardia medica perché in un paese sicuramente ci saranno molte persone anziane che se non hanno qualcuno che l'accompagna nel paese più vicino dove c'è la guardia medica oppure il medico di base sicuramente questi anziani rimarranno senza un'adeguata assistenza sanitaria quindi non tutti le persone ultra 75 anni diciamo ultra 70 anni magari hanno un familiare o qualcuno che possa assisterli anche in questo il problema della sanità in Calabria e quindi del bisogno di salute è grave sebbene con stiamo leggendo e ascoltando dai media che praticamente questo governatore sta diciamo per quello che riguarda la dotazione di strumenti e l'implementazione dei concorsi per quanto riguarda il personale mancante si sta facendo qualcosa certamente non si possono aspettare i tempi soprattutto nella burocrazia in quanto non c'è soltanto la popolazione anziana da salvaguardare ma quello che è importante sviluppare il territorio perché non è possibile che per una semplice indigestione bisogna andare a incolfare il pronto soccorso degli ospedali per cui è ovvio che un medico di guardia anche che abbia come circoscrizioni piccoli gente ci deve essere primo perché il front office e quindi subito l'approccio con un medico è fondamentale secondariamente proprio per evitare che praticamente si abbia un affollamento dei pronto soccorsi quindi questo bisogna assolutamente evitare e far stare sicuri i cittadini per cui in modo che si abbia immediatamente comunque un contatto con chi ha bisogno in quel momento di salute sicuramente questo è un diritto negato è un diritto negato quindi si viola la costituzione è un diritto negato da tantissimi da decenni soprattutto nel meridione d'Italia in Calabria in particolare quando ci sono delle disfunzioni perché poi noi interveniamo sempre purtroppo quando succede qualche incidente quindi quando c'è un ritardo nel soccorso quando per tanti motivi c'è una ritardata o errata di agnosi quando diciamo ci sono delle disfunzioni tali da portare veramente danni a coloro che chiedono diciamo aiuto che hanno bisogno di essere curati di essere presi in carico la prevenzione la deve fare purtroppo le istituzioni devono prevenire questi fenomeni quindi come dotando naturalmente ogni parte d'Italia deve essere uguale quindi non ci possono essere dei territori che sono ben serviti diciamo dal sistema sanitario nazionale e territori dove purtroppo è latitante per motivi ecco carenza di posti carenza di organico però non si può lasciare un centro sfornito di un punto medico un punto medico quindi l'appello anche da parte che viene fatto anche nel corso di questa trasmissione intanto salutiamo chi è in linea pronto salve da dove ci chiama da cosenza benvenuto intanto prego una domanda alla dottoressa Ippole eccola allora la mia compagna è residente a cosenza di nove anni però a luglio ha avuto la cittadinanza italiana a luglio e sono andato per fare il reddito di cittadinanza e non ce la vogliono fare perché non ha i dieci anni di di residenza aveva la residenza ma non la cittadina italiana non va aveva il reddito di cittadinanza allora bisogna essere cittadini italiani e bisogna essere residenti per dieci anni in modo continuativo in Italia se manca o l'una o l'altra non si ha il requisito per cui la domanda non si può fare quindi è questo bisogna avere sia l'uno di residenza continuativa sì esatto ok grazie a voi grazie grazie a lei ancora richieste di aiuto ci segnalano che un invalido senza una gamba con un ischemia abbandonato tre giorni senza assistenza su una barella senza che nessuno lo abbia aiutato in pronto soccorso insomma questo è mala sanità purtroppo bisogna denunciare capiamo le carenze di personale ma non deve venire a mancare l'umanità nelle strutture sanitarie quindi se c'è carenza di personale bisogna assolutamente intervenire o consentire al limite lo so che c'è stato il periodo del covid ci sono le misure per contenere la pandemia soprattutto ma è giusto nelle strutture sanitarie perché già ci sono malati che combattono contro diverse patologie però magari consentire l'accesso ad un parente se non c'è il personale però dobbiamo tenere come che poi tutto va verificato quello che ha denunciato il telespettatore chiunque per bisogno di salute mette piede in una struttura sanitaria scatta l'obbligo di custodia quindi non è tanto che deve essere subito con l'equip di medici bisogna evitare che il soggetto fragile altrimenti non si troverebbe in pronto soccorso cada si faccia male che gli vengano sempre garantiti garantita la vigilanza dei parametri vitali e quant'altro quindi indipendentemente dal puoi operare direttamente però questo obbligo di custodia è immediato come uno mette piede in una struttura sanitaria avendo bisogno ecco ci sono tutta una serie di responsabilità l'abbandono al pronto soccorso diciamo le viola tutte quante per cui ecco c'è bisogno di più personale che si mettono in moto anche dei meccanismi di decretazione d'urgenza e quant'altro però diciamo queste situazioni devono essere assolutamente scongiurate ecco certo altre domande sui caregiver ci sono contributi economici per l'assistenza di un genitore anziano invalido ci chiedono allora per quanto riguarda pensionati pubblici o figli di o naturalmente figli di dipendenti pubblici c'è la possibilità di aderire al bando home care premium proprio naturalmente rivolto all'assunzione di un assistente domiciliare che farà da ausilio naturalmente al disabile stesso per chi invece non appartiene a questa categoria quindi parliamo di settore pubblico invito a rivolgersi ai propri comuni di residenza perché ci sono delle cooperative dove naturalmente bisogna compilare una serie di moduli per vedere se si può avere un ausilio per quanto riguarda le persone invalide che magari presentano anche disagi economici o quant'altro quindi se vi rivolgete ai vostri comuni di residenza si può naturalmente compilare questa modulistica andare in graduatoria e magari avere qualche forma di aiuto intanto abbiamo una telefonata e questo praticamente poi ne parliamo è una forma di razzismo non capisco perché i dipendenti pubblici devono avere quello gli altri sono figli di di un dio minore di un dio minore non si comprende perché solamente per i dipendenti pubblici e non per gli altri cioè chi ha bisogno d'aiuto mi sembra che non deve essere è trasversale il bisogno tanto questa è una delle tante ingiustizie italiane questo di cui sto parlando prima per cui privatizzare il pubblico o rendere pubblico le norme del pubblico al privato se a me c'è questa disperità che non va bene proprio intanto salutiamo chi è in linea pronto? pronto? salve da dove ci chiama? sono Domenico da Trottone benvenuto signor Domenico semplicissimo vorrei fare una domanda alla dottoressa Impolito eccola siccome io sono 58 anni e vivo con mia madre sul gruppo familiare si mi aspetta l'esenzione 02? allora allora l'esenzione 02 riguarda i nuclei familiari che hanno all'interno disoccupati quindi bisognerebbe capire intanto il reddito è proprio disoccupato e bisogna capire il reddito del nucleo familiare quindi la condizione di disoccupati per quanto riguarda l'esenzione ticket non va preso in considerazione il modello ISE ma bisogna prendere in considerazione il reddito del nucleo familiare che sarebbe o il 730 oppure i redditi persone fisiche che si fa naturalmente nelle mensilità da maggio in poi a giugno quindi bisogna vedere il dichiarativo il reddito non il modello ISE comunque adesso le do esattamente l'importo che non bisogna superare per avere diritto all'esenzione 02 le do esattamente proprio il requisito che bisogna rispettare va bene grazie grazie per aver telefonato intanto ci chiedono dove si trova il band on care abbiamo visto che insomma vale per i dipendenti pubblici non per i privati quindi allora il bando home care premium è presentabile naturalmente sul sito dell'Inps quindi bisogna essere in possesso dello speed sia naturalmente del disabile sia di chi poi è beneficiario della misura stessa in questo caso si fa l'adesione al bando bisogna aspettare la graduatoria che naturalmente uscirà solitamente nei 60 giorni dopo che viene presentato il bando requisito essenziale bisogna fare il modello ISE del disabile ISE socio sanitario assistenziale perché bisogna riportare la disabilità e il grado per poter poi verificare l'Inps stesso anche il grado di invalidità quindi la gravità quindi è presentabile direttamente dal sito dell'Inps sarà questa la domanda mi pare di aver capito abbiamo un'altra telefonata intanto pronto pronto si è in diretta già pronto mi sente mi sente pronto eccoci da dove si chiama è da Reggio Calabria benvenuto benvenuto prego sentite io sono un invalido oncologico si e ho la 104 e più il 100% si ho fatto la domanda per l'accompagnamento e non me le hanno accettate ho fatto richiesta per il bollo e non me le hanno accettate cosa devo fare non ha l'articolo 3,3 ha un articolo 3,3 nel verbale di invalidità le hanno dato un articolo 3,3 invalido al 100% giusto? si in situazione di handicap ce l'ha forse non me le ricordo adesso allora invalido anche per il bollo non me le hanno accettate ha detto che devo essere proprio nella seggia a rodello no se è un articolo 3,3 a prescindere se abbiano riconosciuto l'indennità di accompagnamento ci sono diciamo i benefici e da 67% veramente che danno il parcheggio per i disabili infatti ci sono i benefici anche per quanto riguarda il TIC è ovvio che se serve per voi per il semplice fatto che lo richiedete per la vostra autovettura l'indennità di accompagnamento non ve ne daranno mai perché ecco perché siete in grado di compiere gli atti quotidiani della vita siete in grado di riambulare per cui sicuramente non vi daranno mai l'indennità di accompagnamento quindi bisognerebbe capire voi che cosa il medico curante oppure chi ha fatto ma serve per voi questo per i disabili il parcheggio per i disabili serve per voi no non è il parcheggio il bollo ah il bollo l'esenzione del bollo auto eh ma a chi serve scusate a me a me ma perché voi usate la macchina io sono sono l'invalido eh ma usate la macchina voi no io non la guido la guido la mia figlia diciamo l'accompagnatore diciamo l'accompagnatore se non siete in grado di compiere gli atti della vita cioè deambulare nutrirvi vestirvi provvedere all'igiene personale sicuramente potete tramite il medico di famiglia fare richiesta di aggravamento se non l'avete fatta andando a richiedere l'ho fatto due volte l'avete avete impugnato in tribunale questo verbale al tribunale si deve fare ma l'avete fatto no al tribunale no eh però sempre se ci siano le condizioni i requisiti sanitari per cui se non siete in grado di provvedere a queste azioni quotidiane che vi ho detto io come fisicamente sto bene ma però sono ho avuto otto operazioni otto operazioni più chemio radioterapia è una valutazione medica è una valutazione l'accompagnamento non c'è è una valutazione medica questo che non possiamo fare da qui noi non siamo medici no 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 allora le patologie danno possono essere secondo sono tabellate per quanto riguarda il punteggio la percentuale di invalidità da attribuire e quindi si può arrivare al 100% articolo 3 comma 3 legge 104 l'indennità di accompagnamento è qualcosa di diverso che presuppone di avere il 100% in situazione di handicap la norma dice o la 100% la norma dice che però non bisogna essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per cui purtroppo il cumulo di patologie gravissime ma comunque il soggetto deambula si nutre si veste eccetera in pratica si può gestire relativamente all'età quindi relativamente all'età si può gestire da solo ovviamente non avrà mai l'indennità di accompagnamento l'indennità di accompagnamento è che non potete vivere e fare queste azioni senza l'ausilio continuo di uno che di un accompagnatore di uno che vi ausilia in queste attività quindi parlate bene col medico di famiglia che sicuramente vi saprà indirizzare comunque indipendentemente dal cumulo di patologie per quanto riguarda il bollo se ci dice che è un'invalidità al 100% ve lo devono dare per forza per cui dai in automatico nel caso di acquisto di nuova macchina chiaramente giusto mi hanno detto che devo essere la macchina omologata per invalide dipende se la guidate voi ma poi dipende perciò allora fate vedere perché poi ci sono ci sono le macchine con gli ausili per coloro che guidano se la guida chi la guida e la serve alla persona che è invalida è un'altra cosa vi dovete far guidare da un patronato andate a un patronato il più vicino a casa vostra e quindi ve le fate fare dal patronato queste domande che si fanno però in modo corretto va bene grazie grazie per aver telefonato non so se voleva fare un'altra domanda al volo prego siccome mi sono arrivati tre bollette tre bollette di acqua mi sono dopo tre anni mi sono arrivati tre bollette di acqua con la somma errata cosa devo fare perché bollette dell'acqua gli ho portato anche allora dopo tre anni dopo tre anni sono bollette di acqua sono bollette a conguaglio o a consumo no no consumo consumo ma però sono stimati sono stimati però con 450 metri cubi in più allora sono stimate praticamente non hanno valore però le dovete impugnare quindi impugnare a secondo del valore davanti se sono di questa entità dal giudice di pace competente ricordatevi che dal primo marzo si adisce quindi si va davanti al giudice di pace solamente con ricorso non più con atto di citazione ma questi sono aspetti tecnici vi dovete recare presso un'associazione di consumatori o presso un'associazione di categoria se voi siete pensionato e quindi o una se questo però dovete fare vi dovete recare da un tecnico sono andato dai consumatori e mi hanno chiesto 100 euro comunque questo insomma probabilmente non è che hanno il tesseramento forse che hanno richiesto era 50 euro per le istruzioni e 50 euro per l'avvocato per iniziare le mie pratiche io non so dove io non ho soldi io prendo 612 euro di pensione come si è accettate gratuito no 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 allora siccome voi accedete 2800 euro di acqua allora siccome voi accedete al gratuito patrocinio sceglietevi l'avvocato che volete perché accedete al gratuito patrocinio la foglia è 11700 euro l'anno per cui se avete siete al di sotto di questa cifra potete accedere al gratuito patrocinio quindi andate dall'avvocato da un avvocato che volete che liberamente vi scegliete perché potete fare ciò in quanto è lo Stato che sopporta ma il padronato non lo fa l'avvocato il padronato c'ha l'ufficio legale però diteglielo qual è il vostro reddito che tutto quando è al gratuito patrocinio è certo come no è certo bisogna comunicare con quelli 6.000 euro di reddito perciò vi sto dicendo però ditelo però ditelo ditelo in modo che sanno già che siete al gratuito patrocinio per cui ecco possono già agire va bene ho fatto la ratazione di una bolletta avvocato e da un anno non mi è arrivato niente e lì la ratizzazione di una bolletta non è arrivato niente lì comunque bisogna farla vedere bisogna farla vedere perché se non è arrivata niente poi avete diritto al ritardo che loro hanno fatto ad un ulteriore di relazioni di pagamento però vi dovete far seguire ecco questo perché anche quello che noi vi diciamo a meno che non registrato vi prendete appunti ecco poi ve lo devono rispettare ma noi se non vediamo diciamo le carte noi sempre da quello che il telespettatore dice ovviamente però bisogna comunque farsi portare le carte portare in questo caso la bolletta io ho fatto anche la vota al contatore e ci sono 472 metri ma lo dovete poi questo che voi fate ha bisogno di una verifica giudiziale vi sto dicendo per cui recatevi da un patronato che ha l'ufficio legale vi deve seguire un tecnico legale e noi intanto dobbiamo dare la linea alla regia perché c'è la pubblicità grazie grazie per aver telefonato ci vediamo tra pochissimo ed eccoci di nuovo in studio cerchiamo di rispondere a qualche domanda che ci è arrivata sul nostro numero whatsapp intanto con la dottoressa Ippolito completiamo la risposta al telespettatore che aveva prima chiamato riguardo l'esenzione del 02 allora in questo caso essendo lui disoccupato però a carico della madre che è pensionata non gli spetta l'esenzione 02 perché in questo caso lui essendo a carico della madre che è pensionata se la madre non supera i 36.158 euro di reddito rientra nell'esenzione E01 di conseguenza il figlio non rientra nell'esenzione E02 perché parliamo di disoccupati e familiari a carico ma la madre essendo pensionata non è disoccupata per cui non ha nell'E01 nell'E02 quindi non ha diritto insomma a questa essenzione esatto ci chiedono vorrei sapere se arrivo all'età pensionabile senza aver versato contributi ho diritto a qualche tipo di pensione se sì sarà in base all'ISEE quindi se non si è mai la pensione di vecchiaia diciamo la classica pensione sociale non so se è quella però bisogna capire il reddito se non si hanno contributi se naturalmente non potrebbe solo aspirare all'assegno sociale al raggiungimento dei 67 anni di età solo a questo potrebbe pensare di richiedere sempre se non ha naturalmente ben intestati o comunque altre tipologie di redditi certo esattamente altrimenti poi non esattamente ci chiedono i contributi del privato possono unirsi al lavoro nel pubblico sono un insegnante di scuola primaria che ha lavorato nel privato da giovane per otto anni e dopo è stata assunta al ministero della pubblica istruzione allora la risposta è sì in modo generale poi bisogna capire e quindi consiglio all'insegnante di recarsi al proprio patronato di fiducia perché bisogna poi capire se conviene fare la ricongiunzione o la diciamo cumulare quindi ricongiungere o cumulare i contributi gli anni del privato con il pubblico nel caso sia cumulativo è gratuito però bisogna fare una simulazione per vedere se conviene ricongiungere quindi anche se pagare diciamo diventa più vantaggioso rispetto che cumulare gratuitamente bisogna simulare sia la prima opzione che la seconda opzione e questo si può fare solo se si porta tutta la documentazione al patronato e naturalmente si fanno gli estratti contributivi e si fa proprio va a simulare sia la pensione in totalizzazione che ricongiunzione con la ricongiunzione rispondiamo a Vincenza la signora Vincenza da Palmi che ci chiede percepisce il reddito di cittadinanza ha il marito invalido ci chiede se viene tolto a luglio questo reddito di cittadinanza ci dice che il marito gli hanno anche amputato la gamba quindi in questi casi rimane giusto avvocato per tutti gli invalidi la misura continuerà ad esistere quindi non si perderà in questo caso allora sono un percettore di reddito di cittadinanza e Naspi ad aprile finisce la Naspi di 13 mensilità finita la Naspi chiede aumenta il reddito di cittadinanza con la Naspi sta percependo 317 euro quindi si aumenta poi l'importo del reddito di cittadinanza quando finisce la Naspi dovrebbe? Allora in questo caso si presume che il telespettatore sta prendendo il reddito di cittadinanza di integrazione di quello che sta ricevendo come sussidio della Naspi è normale che terminando la Naspi e naturalmente facendo presente che è terminato questo sussidio è normale che il reddito di cittadinanza dovrebbe poi coprire interamente quello che già veniva erogato dalla Naspi stesso quindi assolutamente sì Altra domanda vorrei sapere ci scrivono l'IMO sulla seconda casa si paga in base ai metri quadri oppure c'è una tariffa diversa? L'IMO sulla casa si paga sempre solo ed esclusivamente sulla base del valore della rendita catastale moltiplicata per dei coefficienti che sono stabiliti per legge la rendita catastale viene fuori dalla localizzazione dell'immobile quindi dove si trova l'immobile dai metri quadrati dal numero delle stanze e quindi sono tutti questi gli elementi del tipo di rifiniture quindi tutti questi elementi vanno poi a determinare la categoria con l'assegnazione della rendita catastale da parte del catastro sulla base della rendita catastale si fa il calcolo della base invonibile e finiamo perfetto altra domanda stiamo cercando di rispondere un po' a tutte le domande anzi chiediamo scusa se magari non ci riusciamo sempre perché davvero sono tantissime le domande che ci arrivano sul whatsapp intanto abbiamo una telefonata pronto? scusate io non ho capito quanto danno forse di pensione di invalidità è questo? no 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 ho detto ho detto si va in pensione di vecchiaia 67 anni 67 anni compiuti oppure 60 anni 67 anni compiuti e almeno 20 anni compiuti e almeno 20 anni compiuti ah l'avete in grado di vecchiaia la pensione di vecchiaia le chiede ma aveva già chiamato primo e non aveva telemonare ha chiesto solo l'età senza contributi questa è ancora in linea? 60 anni 60 anni 67 anni senza contributi se contributi ci vogliono i 67 e almeno 20 anni di contribuzione chiaramente e ci chiedono ancora il fatto dei figli ci chiedono da Villa San Giovanni la moglie 19 anni di contributi 66 anni di età due figli può aumentare un anno un anno quindi i due figli contano praticamente per un anno di contribuzione figurativa raggiungerebbe quindi avendo i 19 anni si aggiungerebbe l'anno figurativo delle maternità quindi sei mesi riconosciuto per ciascun figlio quindi raggiungerebbe il minimo che sarebbero 20 anni e può fare domanda di pensione appena raggiunge poi i 67 anni perfetto ci chiedono se ci sono novità per il bando Attiva Calabria per i soccupati e inoccupati over 35 è da un po' che non ne parliamo del bando Attiva Calabria l'abbiamo lasciato un po' l'anno scorso giusto? ne avevamo parlato l'anno scorso anno allora diciamo che c'è già una graduatoria ma non è quella definitiva quindi per cui invito tutti coloro che hanno fatto hanno partecipato al bando di attendere perché ci sarà una graduatoria definitiva perché molte persone che erano naturalmente avevano superato erano in graduatoria ammesse e finanziate hanno naturalmente stanno rifiutando perché magari hanno già trovato collocazione lavorativa altrove per cui ci sono già molti tirocini che sono diciamo in partenza e la graduatoria non è definitiva quindi bisogna sempre tenersi in contatto con le associazioni con gli enti che hanno fatto il bando stesso in modo tale da monitorare diciamo la graduatoria e vedere naturalmente se oltre ad essere ammessi si è anche finanziati altra domanda sul bonus di 200 euro che ripetiamo era una misura una tanto ma quindi chi già l'ha ricevuto quindi non ne avrà ancora cioè non avrà altri 200 euro era riconosciuta solo una volta quindi un bonus da 200 euro un bonus da 150 non ce ne sono altre ci scrivono però ci chiedono se una pensione di 680 euro un reddito di 23.000 euro o diritto a questo bonus probabilmente non l'ha ricevuto ancora ma è probabile che sia questo allora la pensione di 680 euro mensile il reddito di 23.000 euro il reddito del nucleo non ha considerato il reddito singolo perché con una pensione di 680 euro mensili non può avere un reddito di 23.000 euro quindi ripeto per chi aveva fatto domanda di 200 euro non bisognava superare i 35.000 euro di reddito quindi la signora è rientrata sicuramente per chi invece aveva fatto richiesta di 250 non bisognava superare i 20.000 euro ma non del nucleo pensione oppure stipendio singolo cioè reddito singolo della persona che lavorano oppure coniugi pensionati hanno avuto questo bonus ogni coniugio ha avuto il pensionato quindi a prescindere il reddito singolo non coniugale quindi in questo caso non bisognava superare i 20.000 euro di reddito singolarmente non coniugale sia per i 150 che per i 200 invece 35.000 euro sempre singolarmente ecco se chi ci ha scritto magari non ha ricevuto questo bonus può rivolgersi dove un patronato sembra il patronato che fa poi da intermediario con l'Inps si faranno poi tutte le verifiche per vedere l'aspettanza o meno telefonate intanto pronto 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 eccoci da dove ci chiama da Mondalto benvenuto intanto prego vorrei fare una domanda alla dottoressa Eppolito eccola prego la dottoressa la ascolta vorremmo ascoltare anche noi la domanda sì siccome io ho una figlia minore e una moglie invalida due sì sì allora ancora in linea sì sono in linea eh perfetto una figlia minore giusto e una moglie invalida invalida è una moglie invalida una moglie invalida sì vorrei sapere se la misura del reddito a me mi verrà tolta all'olio no lei ha il componente disabile all'interno del nucleo per cui la misura le rimane tranquillamente non la perde voleva sapere altro è chiaro no no quindi la misura mi rimane sì fino a dicembre fino a dicembre 2023 sicuramente sì poi da gennaio 2024 dobbiamo attendere per vedere se ci sono novità a tal proposito poi c'è questo reddito che si trasforma in mia quindi dobbiamo capire cosa come evolverà no poi questa misura da reddito di cittadinanza mia vedremo quali saranno poi i passaggi però fino a dicembre 2023 che ha un disabile in casa o a chi più di 59 anni di età quindi difficilmente collocabile al lavoro la misura continuerà ad esistere questo fino a dicembre 2023 è garantito poi da gennaio 2024 non sappiamo se verranno introdotte diciamo delle novità quindi aspettiamo non so se ancora in linee voleva fare qualche altra domanda no ha salutato allora rispondiamo a qualche altra domanda su whatsapp ho il 75% di invalidità ci chiede mi tocca la reversibilità della pensione di mia mamma perché mi hanno detto che ci vuole il 100% per la reversibilità figlio invalido il 75% bisogna avere il 100% per avere diritto alla reversibilità del genitore deceduto non è oltre alla convivenza con il genitore deceduto bisogna avere il 100% di invalidità altrimenti non si ha il diritto col 75% quindi che è soltanto con il 100% con la convivenza quindi con il genitore deceduto assolutamente sì torniamo a parlare un po' di tributi di tasse c'è ancora tempo per la rottamazione giusto si può ancora aspettare non solo c'è ancora tempo si sta parlando di una possibile proroga di spostare quelli che sono i tempi di adesione da aprile a maggio e i pagamenti da luglio a settembre anzi no fino a giugno per aderire e spostare poi i pagamenti al mese di settembre vi ricordo che a livello di definizione agevolata perché ecco noi parliamo tutti quanti di rottamazione ma il provvedimento che è stato fatto con la legge di bilancio è un sono dei provvedimenti che sono spalmati su più commi della legge di bilancio che non riguardano solo le cartelle esattoriali perché ecco tutti quanti parliamo di definizione fiscale quindi di questa rottamazione pensiamo subito alla cartella di Equitalia al bollo auto alle imposte non pagate e quant'altro ma all'interno della misura ecco vorrei ricordare ai nostri telespettatori ci sono numerosi strumenti che permettono di poter risparmiare anche sui pagamenti che ci sono in corso faccio un esempio classico è arrivata una lettera dell'agenzia delle entrate che mi ha detto caro contribuente vedi che non hai versato l'acconto delle imposte per questo anno devi pagare una sanzione io potevo pagare o in unica soluzione entro i 30 giorni oppure rateizzare a secondo dell'importo in 8 rate trimestrali o se l'importo superavi 5.000 euro fino a 20 rate trimestrali oggi chi ha in corso una di queste rateizzazioni può ricalcolare la rateizzazione e invece di pagare la sanzione ridotta al 10% la paga ridotta al 3% quindi questo è un ulteriore risparmio per chi ha dei pagamenti in corso entro il 31 marzo termine che comunque probabilmente sarà spostato al 30 aprile c'era la possibilità per tutti coloro che hanno omesso di dichiarare un reddito quindi in Italia c'è la possibilità se uno sbaglia nel dichiarare i propri redditi diciamo di correggere questo errore andando a presentare una nuova dichiarazione che si chiama integrativa dalla quale poi nel momento in cui vengono fuori le somme da pagare il cittadino doveva pagare l'importo delle imposte non versate comprensivi di una sanzione di un interesse con la legge sulla definizione agevolata il nostro concittadino può fare la dichiarazione integrativa di dilazionare in otto rate trimestrali i versamenti usufruendo di una sanzione ridotta di un diciottesimo e aggiungendo gli interessi quindi gli strumenti deflattivi sono tantissimi come nel caso per esempio anche di chi ha delle cause con il fisco ne parliamo tra poco cause col fisco perché abbiamo una telefonata in attesa pronto? pronto? pronto sì pronto l'ho preso da dove ci chiama? dalla provincia di reggio Calabria benvenuto intanto grazie ben trovata io la guardo spesso di pomeriggio volevo porre una domanda alla dottoressa a proposito dei limiti pensi dei come dire io prossimamente compierò 41 anni di contributi un paio di mesi ho 63 anni d'età e volevo sapere se posso accedere a quota 103 dopo questa scadenza o c'è una fase di anticipo per come dire entrare in questo meccanismo 63 anni 41 di contributi quindi intanto bisogna tra un paio di mesi tra un paio di mesi intanto bisognerebbe anche capire se conviene aderire a quota 103 perché magari si va a perdere anche qualcosa infatti bisognerebbe fare dottoressa allora io consiglio intanto di se non l'ha già fatto di andare ad un patronato e fare immediatamente un estratto contributivo per vedere se effettivamente quello che sta dicendo è quello che è e poi fare anche la simulazione per la quota 103 per valutare poi se effettivamente conviene aderire alla quota 103 quindi questo io le consiglio intanto di fare per quanto riguarda un anticipo penso lei si riferisca all'ape social però in questo caso dovremmo anche valutare quello che bisognerebbe sempre fare una simulazione sia per quanto riguarda la quota 103 sia per quanto riguarda un'ape social anche perché per avere l'ape social bisognerebbe avere un diciamo o una perdita involontaria del lavoro quindi ci sono determinati requisiti poi per l'anticipo no no ma l'ape social è anche sì dicevo l'ape social pensavo fosse solo un'opzione anche per gli uomini possono accedere l'ape social sì assolutamente sì 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 non è rivolto solo alle donne anche per gli uomini però bisogna ci sono dei requisiti che bisogna avere per avere poi per proprio avere l'accesso all'ape social tipo perdita involontaria del lavoro oppure bisogna essere invalidi con una percentuale che non deve essere al di sotto se non mi sbaglio del 60% però da verificare bene se questo è il grado di invalidità oppure bisogna essere assistenti di invalidi con la quale ci si convive quindi ci sono dei requisiti di avere ma in ogni caso bisogna fare sempre le simulazioni per vedere se quale diciamo delle misure conviene e innanzitutto questo è solo tramite il patronato che le può dare assistenza gratuita in questa fase le consiglio di rivolgersi perché sicuramente gli darà assistenza in merito bisogna vedere la convenienza spesso quando si deve andare in pensione poi si deve valutare credo che non ci fosse una decurtazione del credo che qualche cosa si vada a perdere bisogna sempre vedere la prima cosa che bisogna vedere perché purtroppo dire quello che si va a prendere se si ha il diritto o meno diciamo che è sbagliato diciamo in questo contesto perché bisogna sempre fare una valutazione documentale delle cose bisogna fare un estratto contributivo bisogna vedere come sono stati pagati i contributi e se sono dei contributi pieni se ci sono cioè è tutta una valutazione che va fatta nel complessivo quindi sono dei contributi pieni dottoressa pieni dei contributi pieni perché io ho lavorato in poste italiane in tutto questo periodo ok perfetto allora sulla base di quello che ci sta dicendo diciamo delle informazioni che ci sta dando gli spetterebbe però ripeto per vedere anche la quantificazione bisogna fare la simulazione e tramite il padronato sicuramente vi daranno modo di avere una diciamo un quadro più preciso dettagliato e preciso esattamente comunque bisogna aspettare il compimento del quarantunesimo anno di età certo quello sicuro assolutamente sì assolutamente sì 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 è stata sublime grazie a disposizione grazie 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 a lei allora dottore Scalmazzi concludiamo allora la risposta che ci stava dando prima insomma questo conflitto anche con con il fisco giusto eravamo rimasti se ci sono cause pendenti nei tre gradi di giudizio praticamente i contribuenti a secondo della soccombenza o meno nei procedimenti potranno ottenere degli ambisconti con il fisco cioè faccio un esempio se uno è arrivato in Cassazione e ha avuto ragione nei due gradi precedenti di giudizio e non sono state emesse non è stata emessa ancora la sendenza della Cassazione il contribuente potrà agevolmente chiudere la pendenza con il fisco pagando solo il 5% di quello che è il valore della lite quindi bisogna sempre rivolgersi io lo dico sempre rivolgersi ai professionisti poi per voltare tutte queste la problematica non è però quella di rivolgersi ai professionisti perché spesso ognuno di noi non si rivolge ai professionisti perché non ha conoscenza di quello che succede indorno a noi certamente se una persona oggi c'è una ratizzazione in corso con F24 per imposte non vagate se nessuno gli ha detto nulla oggi tramite di noi può sapere che c'è la possibilità di risparmiare ulteriori somme su quelle che sta versando grazie alla definizione agevolata certamente poi dovrà attivarsi per rivolgersi al professionista però formalmente se una persona non viene portata a conoscenza di un qualche cosa non potrà cercare nemmeno il professionista di riferimento magari il commercialista di fiducia in questo caso magari cercare è chiaro che insomma non possiamo sapere tutto pensare che anche la marea di contribuenti per quanto possa essere eseguita dai centri di assistenza fiscale dai patronati e quant'altro non sono poi dei call center perché comunque anche un CAF impegnato nell'attività quotidiana di ricevimento della clientela se anche il contribuente non si fa sentire con il CAF ho sentito questo io ne posso soffruire il CAF conoscendo la sua situazione potrà invitarlo presso gli uffici per ricevere assistenza però ecco dobbiamo essere sempre comunque noi cittadini a proporci e verificare se ci sono determinate condizioni per le quali possiamo ricevere delle agevolazioni o nel caso contrario siamo tenuti a degli obblighi che vengono imposti dal legislatore insomma dobbiamo essere sempre sul pezzo avvocato dobbiamo sempre manca perché non sono il problema che abbiamo sempre denunciato ci sono gli uffici in relazione con il pubblico o ci sono gli uffici previdenziali per esempio dovrebbero essere loro che hanno l'anagrafa esatta di ogni cittadino chi meglio di loro e avvisare loro la buona amministrazione al cittadino che vi sono determinati diciamo premialità per la propria situazione a cui possono acquisire vedete quindi non è sempre il cittadino che si deve andare a leggere il sole 24 ore ogni mattina ma sono gli enti che siccome non sono soldi loro sono soldi pubblici se possono aiutare le persone o aggevolarle è loro che devono farlo per dirla tutta Allora io vorrei riportare un esempio che proprio mi è stato raccontato stamattina da una persona questa persona come molti in questo periodo stanno avendo problemi con gli importi degli assegni unici che stanno venendo accreditati sulla base del nuovo IS questo signore si è recato presso lo sportello dell'Inps lamentava il fatto che non aveva ricevuto assistenza e l'impiegato che ha trovato lo sportello l'ha liquidato dicendogli non sono io che posso effettuare queste verifiche ritornate un'altra volta cioè non c'è stata l'attivazione di dovete rivolgervi al collega ma il cattivo costume è proprio questo il cattivo costume è proprio questo nel senso che poi il cittadino è abbandonato se il cittadino non è che può sapere gli fa male un orecchio c'è un tumore al piede cioè bisogna fare informazione e quindi il cittadino è informato e anche che sa meglio stimolare gli uffici di relazione con il pubblico quando uno va con il problema purtroppo questo sono la mancanza che denunciamo sempre è proprio questo è proprio questo mancata indicazione e quindi naturalmente ma nel momento in cui mi rivolgo all'ufficio relazioni col pubblico di un ente quell'ufficio relazioni dovrebbe chiamare il funzionario capace di rispondere al cittadino io vi informo che il tempo a nostra disposizione è terminato purtroppo mi dicono alla regia che dobbiamo chiudere grazie comunque ai nostri ospiti l'avvocato Rodigliero la dottoressa Ippolito e il dottore Scalmazzi grazie al nostro Luca Chito in regia come sempre ci vediamo la prossima settimana di vederci avvocato io li matino vadin